Allora, qual è il problema? Beh, abbiamo detto, i volti cambiano nelle nostre forme psicofatologiche, uno degli stimoli più acuti, più spinosi, ci viene dal mondo della tossicodipendenza, della multidipendenza e quanto e in che misura poi la collaborazione nei vari contesti di cura necessita di un approccio multidisciplinare che sia fatto bene. Era nel 1969 quando viene definito il termine di tossicodipendenza, ma già allora e nell'intervallo di tempo che intercorre fino a epoca recentissima in cui si è parlato di polidipendenze, si era vista l'inadeguatezza, perché le sostanze cambiavano radicalmente, i comportamenti e le sollecitazioni, il pronto soccorso cominciava ad affollarsi in un altro modo e quindi il termine di dipendenza patologica, l'introduzione del termine addiction, lo spostamento sulla dimensione psicologica della dipendenza, rimodula lo scenario e quindi, come dire, si entra un po' più nella dialettica e nella dinamica delle persone che hanno un approccio di dipendenza psicologica a una serie di comportamenti e anche nel DSM 5 viene cancellata, come dire, il binomio e le differenze e le terminologie tra abuso e dipendenza. Entra il termine dipendenza comportamentale dove nel capitolo appunto del disturbo da dipendenza e si sottolinea quanto di fatto poi non c'è differenza nei riferimenti biologici e neurofunzionali e quindi negli circuiti neurali che caratterizzano sia l'una che l'altra di queste forme. Quindi prende rilevanza la ripetitività per un bisogno che mantiene la sfera psicologica. Allora guardiamo un attimo quali sono proprio sul piano concettuale questi passaggi. Cioè nel comportamento dipendente si riconosce in maniera generale che è un comportamento che serve ad abbassare i livelli di tensione negativa e diciamo tutte le manifestazioni correlate a queste e al tempo stesso implementare invece un approccio che intensifica gli stati mentali positivi, quindi il piacere, il rapporto con il piacere e le dipendenze comportamentali si approcciano un po' di più ai cambiamenti e degli stili di comportamento contemporanei. Quindi la tendenza a una immediatezza nella soddisfazione di un bisogno, una diversa modalità di approccio anche alla dimensione del piacere. Ed è un altro aspetto concettualmente importante. Mentre nella tossicodipendenza c'è il soggetto e la sostanza in un certo senso con una logica di confine e quindi noi sappiamo che alcuni comportamenti dipendono dall'interferenza della sostanza. Sembra che questo confine sparisca in tutte le dipendenze comportamentali perché tra il normale e quando e in che misura questa dipendenza diventa patologia questo confine sparisce. Però il minimo comune denominatore se lo portano e se lo trascinano, cioè il discontrollo dell'impulsività, quel carico step by step, anche alle volte catastrofico tra la tensione e l'eccitazione nell'attesa, il passaggio all'atto nella ripetizione di questo comportamento che definiamo un po' tutti quanti insieme come craving, la intensificazione dell'approccio al piacere hanno un elemento comune. Quindi noi che abbiamo fatto? Da un lato si è lasciata inalterata quella dimensione di paura e di pericolosità che si collega alla distanza e questo lo percepiamo nei luoghi di lavoro, lo percepiamo nel pronto soccorso quando una persona ha un comportamento, come dire, irruento e chiaramente dipendente da sostanza, ma piano piano invece nell'altro aspetto, cioè nella possibilità che ci siano dipendenze che non implicano l'uso di sostanza, a benché sembra dissolto il problema della paura e della, come dire, tentazione di differenziarci che si prova, al tempo stesso però abbiamo un peso e un carico a livello assistenziale. Il Ministero della Salute di recente ha pubblicato questa, diciamo nella logica di sviluppo di nuovi modelli per il Servizio Sanitario Nazionale, questo documento relativo ai disturbi da addiction nelle dipendenze legate all'uso e all'abuso di sostanze, fa una differenza tra dipendenza e addiction, da un lato una sostanza, dall'altro c'è una dipendenza psicologica, sia da quella sostanza che da un comportamento, fa una sintesi schematica di questo genere nel sottoscrivere le dipendenze da sostanza con le dipendenze comportamentali, tutto sommato sugli elementi della comorbidità, quanto e in che misura sono sempre presenti in comorbidità varie, ma in un elemento di sintesi sottolinea molto chiaramente che da un lato sia la dipendenza da sostanza che quelle comportamentali, poi di fatto hanno analogie e comorbidità tra di loro e insieme verso altre patologie psichiatriche e al tempo stesso dal sistema di reward neurofisiologico e gli altri sistemi, gli altri circuiti, hanno comunque dei tratti comuni. E quindi quanto e in che misura gli stimoli gratificanti determinano un apprendimento che poi evoca la ripetizione, cioè attraverso il sistema di reward, la gratificazione, la soddisfazione, la memoria e quindi quell'apprendimento che spinge al ripetere. Quindi dal desiderio, il craving e il comportamento ripetitivo di assunzione c'è un meccanismo molto ben chiaro. Quindi non potevo evitare questo accenno, anche se sarà molto sintetico, sono quattro i circuiti che sono impegnato. Quello fondamentale è quello del sistema di ricompensa, il sistema di reward, ma anche quello della motivazione, il circuito della memoria che è quello laterale ma fondamentale nell'apprendimento e nella tendenza all'automatismo nella ricerca di questa soddisfazione e quello che è ovviamente sempre più difettuale, il circuito di controllo. Ma il baricentro è in questo, cioè nella salienza, nel network per la salienza che diventa fondamentale. Alterazioni di questo network determinano questo fenomeno di craving e quindi il discontrollo comportamentale. Si è ampliato a ventaglio ovviamente lo scenario delle addict, cioè dalla dipendenza da internet, il disturbo da gioco su internet, il cybersex, disturbo da shopping e così via via, la dipendenza da lavoro, work alcoholism oppure work addiction da esercizio fisico, viene definita anche la dipendenza affettiva, la tendenza a reinnamorarsi, ahimè, a reinnamorarsi troppo frequentemente di alcune persone. E ovviamente si sottolinea che c'è un approccio necessariamente sociosanitario. L'OMS con l'ICF aveva sul piano della funzionalità e di questi aspetti di disabilità connessi a dipendenza definito un approccio che declinava molto bene le correlazioni necessarie tra fattori di rischio e i fattori protettivi nel fronteggiamento di queste forme, definisce un modello integrato che è di per sé multidisciplinare, che guarda bene alla persona nella sua storicità, a quali determinanti di salute possono appigliarsi le metodologie e l'approccio terapeutico, ovviamente, verso un progetto individualizzato. I costi sociali delle addiction sono altissimi e soprattutto, in un certo senso, hanno a che fare con un fenomeno che si sviluppa in una fase sempre molto specificamente delicata dell'evoluzione dell'apparato psichico di una persona. E quindi ci sono dei fattori evolutivi che possono diventare non solo indicatori, ma criteri critici per la clinica e per la terapia. Sappiamo tutti, lo porto qui come esempio, qual è il costo diretto e indiretto del gioco d'azzardo patologico, sia in termini di costi per l'apparato sanitario, ma soprattutto di quanto costano per le famiglie, per il contesto sociale e quante persone di fatto cambiano fondamentalmente il proprio destino per le conseguenze. Io cerco di essere, Tommaso, te lo prometto, molto molto efficace. Quindi veniamo all'organizzazione dei servizi. Questo scenario sollecita, sollecita tanto. È dal 2014 che i servizi per le tossicodipendenze diventano SERD. Il nuovo sistema di garanzia rivede lo schema dei LEA. Tutti gli approcci di salute sono dedicati e quindi inclusi, quelli del nuovo sistema di garanzia, tra il dovuto di questi servizi per le dipendenze, dove l'approccio e l'accessibilità è appunto con metodologia diretta. C'è una dislocazione capillare sul territorio. Vengono incluse tutte le dipendenze, tra cui quelle che vi ho citato poco fa, come appunto dipendenze e disturbi comportamentali. Il quadro italiano è disomogeneo. Ci sono regioni come la Campania, in cui sono separati i due servizi. Tantissime altre regioni in cui virtuosamente, ovviamente, si è capito che ci sono elementi di continuità sia per la comprensione e sia per l'approccio terapeutico. Quindi il livello territoriale declina la struttura dei dipartimenti, come quelli di salute mentale. Porto questo schema per dire sì, dall'approccio ambulatoriale di contesto dei SERD, che non funzionano neanche H12 un po' in tutti i servizi. Poi ci sono varie opportunità terapeutiche, residenziali, semiresidenziali. La criticità è dove si sottolinea la discontinuità, la disgiunzione con l'approccio di salute mentale quando ci sono le urgenze, quando si arriva direttamente al pronto soccorso, quando il problema, allora, grava, cioè il disturbo comportamentale e il ruento. Molto importante è un approccio sugli interventi di strada, cioè sulle modalità con le quali è possibile ridurre il danno lavorando di prossimità, con metodologie di prossimità, con un approccio che sia informativo che formativo, dove si sviluppa la metodologia dei peer supporter e dove c'è la possibilità di coinvolgere tante ulteriori dimensioni istituzionali, quindi i servizi sociali, il volontariato, il privato sociale, ma anche il mondo della giustizia, le istituzioni tutte, con metodologie poi di un approccio in qualche modo che punta a un reinserimento, cioè a un recupero di ruolo. Quindi molte sperimentazioni e una sintesi un po' di vari progetti delle diverse regioni, determina in alcune, almeno quelle più virtuose, l'idea di una piattaforma che anche a tutti gli approcci sperimentali, con o senza fondi finalizzati, possono riuscire a mettere a sistema tutto quello che viene sperimentato. E questo è uno degli elementi fondamentali per la programmazione e per la successiva gestione di servizi anche innovativi. Quindi prese in carico di soggetti che vengono da altre istituzioni come le prefetture, un sistema di allerta rapido, esistono diverse progettualità molto virtuose nel territorio nazionale, come costruire agenzie territoriali proprio finalizzate ai giovani, interventi anche nel mondo della notte, cioè dove loro condividono abusi alcolici, abusi di sostanze e anche tante altre dimensioni comportamentali. Poi ci sono vari moduli sperimentali, quello per i detenuti, in ambiente carcerario e non, l'impatto con co-housing e modelli alternativi di residenzialità. Chiudo e mantengo la promessa velocissima, un'esperienza sull'adiopedianio, si vengo a livello locale, azienda sanitaria locale, nella misura in cui c'era una criticità regionale, c'era una necessità di cominciare a ridefinire lo spazio delle residenzialità e il dopo cura a livello residenziale. Abbiamo messo in piedi questa struttura residenziale terra futura che è tutta fondamentale, fondata diciamo su una metodologia dell'intervento residenziale molto intensivo ma breve, partendo dai presupposti che ci sono dei dati di criticità per cui troppe persone con doppia diagnosi non ricevono adeguato trattamento. È inevitabile che questo aspetto è importante da gestire bene perché le evidenze scientifiche hanno sottolineato quanto e in che misura nelle fasi di vita dove aumenta la vulnerabilità lì si definisce questo tipo di problema di doppia diagnosi. Tra i vari paradigmi gestionali, tra quello sequenziale e parallelo, ovviamente è stato scelto quello integrato in questa comunità terra futura dove con un ambulatorio si fanno convergere tutte le domande che vengono dal CERD, dai CERD e dal Dipartimento di Salute Mentale. La struttura comunitaria oltre a definire nei suoi PTRI modelli e destinatari è una metodologia che salto dall'accoglienza appunta fin dall'inizio al dopo cura e l'after che è stato ulteriormente strutturato con una rete a raggere con comunità più estensive che potessero, prima di riportare troppo velocemente la persona alla sua vita, definire bene un percorso strutturato nelle sue tappe evolutive. Chiudo. Noi dobbiamo imparare. Questa dimensione della comorbidità diventerà la routine, la prassi comune. Quindi da questo punto di vista dobbiamo imparare a confrontarci con questi nuovi schemi terapeutici, muoverci per micro obiettivi, riuscire a definire aspetti multidisciplinari e integrati perché la prospettiva del futuro sarà prevalentemente impegnata soprattutto da dimensioni del disagio come queste. Grazie. 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 Grazie.